A volte lo spirito americano diventa... Io sono anichilista! Tremendamente spiritoso. Non potrò fare l'esame perché mia sorella è un'idiota. E anche folle, volgare, fuori di testa, demenziale, dissacrante, irriverente, impertidente, irritante, irrispettoso. Ora non prendertela con me. In prima visione assoluta su Italia 1... Un classico! I nuovi episodi di American Dad. Da martedì 8 giugno alle 15. La serata non finisce finché non lo dico io.